Eh sì Capoccio, eh sì, buon pranzo a tutti, oggi video difficile, video complicato perché ragionando un po' vorrei in qualche modo tentare di estrapolare, tirare fuori cosa hanno nella testa Giorgio Furlani e Moncada, perché ragazzi quello che ho detto in un video ad inizio mercato si sta avverando, avevo parlato di rivoluzione e l'idea dei dirigenti del Milan ha detto ora una vera e propria rivoluzione, il Milan secondo loro sulla carta alla fine giorno 1 settembre alla fine del mercato non dovrà avere lacune sulla carta perché poi il campo è tutta un'altra cosa perché magari un giocatore che hai preso tot non ti rende perché magari poi si infortuna Tizio che è sempre Ognio, speriamo di no, però ecco loro sulla carta vogliono un Milan quasi perfetto e vi spiego anche come, ragazzi io spero che anche i più scettici si siano in qualche modo, non dico ricreduti, però ragazzi io non sono pro Gerry Cardinale, attenzione, io per una proprietà che tratta così una bandiera come Maldini non posso nutrire tanto rispetto, non posso nutrire affetto, però ragazzi Gerry Cardinale è tutto tranne una persona stupida, ok? Voi potete dire tutto, potete insultarlo come valete, ma non è stupido ragazzi, è uno che dove si è messo si è messo a livello gli investimenti, è sempre riuscito a trarre un profitto elevato, ecco perché io ho sempre detto ragazzi protestate per Maldini, avete tutte le ragioni del mondo, protestate per come sono stati cacciati eccetera eccetera, però ragazzi non protestate per il mercato perché il mercato complice anche come hai cacciato Maldini sarà un ottimo mercato, di questo non avevo dubbi, adesso andiamo a parlare un po' di tutto. Detto questo però ragazzi mi raccomando il vostro supporto è fondamentale, quindi like al video, commentate, condividete iscrivetevi al canale, raggiungiamo i 5.000 nel miglior tempo possibile, ragazzi like al video qui mentre parlo, mentre parlo è una cosa fondamentale, ci sono un sacco, ho visto gli ultimi video, sono andati benissimo a livello di tempo, medio di visualizzazione, quindi cazzo avrete un po' gradito no? E mettete like che non ci vuole niente, è gratis, finché sarà gratis, perché tra poco ci faranno pagare pure il like, al momento è gratis, soffro io, quindi mettete like e commentate perché a fine video dovete dirmi la vostra, sono molto curioso, sapete che rispondo a tutti. Allora, in questo momento il Milan è identificato come priorità di questa settimana, lo sapete tutti, Reinders, Reinders che dovrà prendersi le chiavi del centrocampo del Milan, voluto da Stefano Pioli, un Milan che molto probabilmente in base agli acquisti potrebbe passare a 3 centrocampo con un 4-2-3. Le tre priorità quindi in questo momento sono in ordine di importanza, il primo posto è il centrocampista che vogliono fare entro la partenza di giorno 21 per il ritiro, l'esterno destro che in questo momento nelle preferenze di Pioli è Ciuquezi che occuperebbe anche l'ultimo posto extracomunitario e la punta. Adesso, la punta è il ruolo tra i ruoli con più necessità che al momento gode di meno necessità. Passatemi il gioco di parole, perché? Perché dipende dall'acquisto dell'esterno destro, ragazzi. Pioli è stato chiaro, anche ieri nella conferenza stampa quando ha descritto le caratteristiche dell'esterno che vuole ha fatto l'identikit di Ciuquezi. Riuscissimo a prendere Ciuquezi, il Milan sicuramente andrebbe su altri nomi, ecco perché al momento escono nomi, ma di tutti questi nomi che si sono in orbita Milan, il Milan non ha identificato nessuno, perché non possiamo farlo. Perché se tu hai identificato come priorità Ciuquezi extracomunitario, automaticamente prendendo Ciuquezi andresti a eliminare tutta una serie di nomi come Taremi, come Balogun, che ovviamente sono anch'essi extracomunitari. Ora, perché non escludo, come ho detto all'inizio del video, Balogun e non escludo Jonathan David? Perché ragazzi, il Milan in questo momento gode di un budget più o meno di 130-140 milioni. A questi levate i soldi intascati, cioè i soldi usciti per Pulisic, quindi fate 20 milioni per Loftus Cic, 22 milioni per Pulisic, quindi levateli questi 40 milioni, ne abbiamo più o meno 100. Il Milan sa che in questo momento nel mercato non può permettersi con soli 100 milioni di uscire una cifra enorme di 40 milioni per l'attaccante. Ecco perché aspetta. Aspetta perché si potrebbero aprire scenari interessanti. Ieri sono arrivate offerte molto allettanti per CDK, il Milan valuterà nei primi 10-12 giorni del suo ritiro, quando tornerà la settimana prossima e partirà in tournée. Quella che potrebbe essere una sua permanenza o meno, perché in un 4-3-3 CDK potrebbe fare la mezzala sinistra, come ha fatto in Belgio due partite su tre, negli europei Under-21, potrebbe fare l'esterno destro, anche se onestamente per caratteristiche fisiche e tecniche lo vedrei molto più messo come mezzala sinistra. Detto questo, qualora Pioli decidesse, arrivassero anche offerte importanti dove tu dici sì, vabbè, vendo CDK perché comunque a centrocampo prendo anche il musa della situazione, però a questo punto aumento quello che è il tesoretto di mercato. E a quel punto, ragazzi, il nome di Balogun io non lo escluderei. Non lo escluderei per tante ragioni. Numero uno, molti lo identificano come una seconda punta, ha caratteristiche della seconda punta, però ragazzi vi ricordo che ha giocato 150 partite in carriera, 135 da punta centrale, sia in un 4-3-3 nel REM, sia in un 4-3-1-2, quindi dove accanto aveva Ito, una vera seconda punta giapponese bassina a breve linea. Quindi ragazzi, lui la prima punta la può fare. Perché potrebbe essere Balogun? Perché con i soldi di CDK che per meno di 28 milioni il Milan non lascerà partire e CDK gode di considerazione, di un'enorme considerazione in premere in Germania, facciamoci tre domande anche per questo, dopo una stagione disastrosa dove non è riuscito a palleggiare con le mani a tante e tante offerte. Il Milan aspetta l'offerta giusta, perché dovessero arrivare 28-30 per CDK. A quel punto, ragazzi, è una cessione inaspettata, perché c'è 30 milioni non te ne aspetti dopo una stagione così da CDK, il Milan andrebbe, a quel punto, con forza economica, a prendere un attaccante, spendendo soldi. Ecco perché al momento sono tutti stand-by, ecco perché ho detto sempre non credete a Morato, non credete a Tizio, non credete a Caio, perché comunque non c'è al momento tutta questa urgenza di fare la punta, per quanto noi tifosi la vogliamo nel minor tempo possibile. Ieri Pio li ha fatto capire, ragazzi, stiamo cercando, proprio ha detto questo in conferenza stampa, stiamo cercando giocatori forti, giocatori pronti, quindi magari non c'è come gli anni passati la necessità di ambientamento, tra virgolette, quando compravi il CDK della situazione, che era un bimbo che usciva dal Belgio e cui dovevi dare comunque quanto più tempo di ambientarsi possibile. Per questo non mi sento di scudere Balogun, oltre che, ragazzi, è un profilo simile al turam della situazione, tra virgolette, all'UAI, all'Openda, tutto questo genere di attaccanti ibridomisti a cui ci siamo interessati, perché il Milan vuole fare un attaccante in grado anche di dare soluzioni diverse al Giroud della situazione. Magari come terza punta dovesse uscire Orighi e alla fine si andrà a prendere una monca data più di peso, no? Quelle mega di cui si parla. Però ecco, vuole un attaccante in grado anche di giocare con il Giroud in quelle situazioni dove magari devi per forza di cose recuperare il risultato e loro a butti due attaccanti. E sono tutti attaccanti, i turam che è andata all'Inter, l'Openda, i UAI, i Balogun che si possono ben sposare con una prima punta in determinati momenti della partita, oltre che in un 4-3-3 creare soluzioni interessanti interscambiandosi con le A.O nelle varie azioni. Queste non sono cose da sottovalutare, soprattutto perché Pioli ha fatto capire che vuole portare le novità tattiche. Quindi, quindi, prendiamoci, prendiamo tutti un bel respiro e la punta, perché, ragazzi, vi dico di respirare, di attendere, perché per la punta ci sarà tanto da attendere. Secondo me la punta, ragazzi, potrebbe arrivare nelle ultime due settimane di agosto per vari eventuali motivi. Il Milan al momento terrà Colombo, abbiamo Riki che non è in uscita perché non vuole uscire al momento, però sembra che Gerard lo voglia convincere ad andare in Arabia, quindi aspettiamo. Il Milan, secondo me, Balogun avrebbe anche una valenza per quanto riguarda il merchandising. Dopo aver preso Pulisic, che farà impennare le vendite di magliettini in America, andrà, vai a prendere l'altra stella del calcio americano, una stella nascente come Balogun. Io non lo escluderei, non dico che sarà lui, non lo escluderei. Cioè, il senso di questo video, ragazzi, è dirvi, non fatevi trascinare dei nomi che fanno, perché al momento il Milan non sa chi andrà a prendere come punto. Al momento proprio la priorità è Reinders, la seconda sarà risolvere in un senso o nell'altro l'alternativa Ciuqueze, perché dopo Ciuqueze, Ciuqueze è perso, ti tufferai su Nico Williams, ti tufferai su Bagaioco, ti tufferai su Isaacsen. Però, ecco, in questo modo vai a lasciare il posto d'extracomunitario libero e quindi ti apri anche l'alternativa Balogun. Per questo vi dico, ragazzi, state calmi, tranquilli, prendete una boccata d'aria, dobbiamo essere pazienti in questo mercato. A me interessa che vengano chiuse prima della partenza per giorno 21 per la tournée estiva in America le necessità, che in questo momento praticamente si racchiudono tutte sotto il nome di Reinders e tutte sotto il nome dell'esterno destro, tra virgolette, perché come dicevo ieri hai preso Pulisic anche per tutelarti, no? Perché in un 4-3-3 gioca Pulisic a destra al momento titolare. Quindi dove si può prendere Ciuqueze si aprono alternative interessanti perché, ricordo ancora per l'ennesima volta, l'obiettivo del Milan alla fine mercato è quello di sostanzialmente avere una rosa completa di 15-16 giocatori forti. L'anno scorso eloggevamo l'Inter che faceva uscire Dzeko, faceva entrare Lukaku, faceva uscire Celanoglu, faceva entrare Brozovic. Il Milan vuole questa idea, vuole essere completo, almeno sulla carta inizionando i nostri di battenza per quanto riguarda tutti i ruoli. Detto questo ragazzi, il video finisce qua. Fatemi sapere cosa ne pensate dei nomi che ho fatto, fatemi sapere soprattutto voi, numero uno, chi vorreste al Milan? Proprio, numero uno, uno, chi vorreste al Milan? Due, secondo voi qual è il nome più probabile che alla fine arriverà? Proprio quando il mercato chiuderà battenti. Bella raga, buon pomeriggio a tutti, vi aspetto vostre notizie.